Il programma intersettoriale La Città Intorno, un programma che mira la rigenerazione urbana delle periferie, sviluppa al suo interno diverse attività, uno di questi appunto il progetto Luoghi Comuni, un progetto che va a lavorare sull'attivazione delle energie dei cittadini legate al tema dei beni comuni, quindi come riuscire a incanalare queste energie, queste capacità, queste risorse al fine di poter rigenerare gli spazi aperti, i beni comuni, i luoghi di aggregazione all'interno dell'area del Comune di Milano.